Passo da Francesca e la quale passerà a Carlo. Grazie, buona serata a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Il premio è molto semplice. Quando Giulio decide di andare a fare il vino dall'altra parte, in zone molto più importanti, ci rende l'idea di creare un premio che premiasse i giovani analogi italiani proprio lui di rimanere analogo, tra l'altro, e proprio farlo a nome suo. Per cercare, dalla parte di ricordare un personaggio che ha fatto tantissimo per il mondo del vino costano, non solo. Probabilmente quello che ha fatto Giulio lo scopriremo bene nei prossimi anni, perché ha creato non una generazione, ma una serie di generazioni, anche di analogi, che poi hanno preso tutti la loro strada, ma che tutti hanno in comune qualcosa, un punto, un incontro, un modo di pensare che era evidentemente...